e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti quanto tempo che non ci vedevamo e che casino che ha successo nel mentre cipini sbriciolati una situazione abbastanza tesa sul mercato e soprattutto oggi che giornatina non so se avete notato tutto il casino che ha successo in nel paese delle meraviglie che di meraviglie non ce ne sono più tante wonderland ed intorni per via di alcune scoperte poco piacevoli di cui chiaramente parleremo in maniera esaustiva nella live di oggi sarà l'argomento principale per ovvi motivi al di là di tutto la situazione su bitcoin è anch'essa ribassista continua lo storno continua la fase down di questo range ancora di range possiamo parlare però perché vedete stiamo attaccando la zona bassa l'ultima zona che ci rimane prima di innescare quello che segue a un costrutto di top gigante che sarebbe una situazione abbastanza spiacevole io di solito prediligo il time frame settimanale per queste situazioni per guardare più da un punto di vista macroscopico e non perdermi in quelli che sono i movimenti di breve guardate è molto eloquente in questo caso il time frame settimanale abbiamo come vi dicevo un grandissimo range che parte dai 30 32 mila e arriva fino al top attuale quindi 60 mila e sopra e al momento ci stiamo muovendo al suo interno quindi se è vero che comunque siamo nel braccio ribassista di questo range comunque il macro la struttura da un punto di vista ripeto macroscopico è sempre quella laterale e pertanto questa è quella che dobbiamo tenere sotto controllo dobbiamo vedere adesso la reazione con i low proprio nella zona 30 32 mila e magari perché no una pesca di liquidità anche appena sotto e vedere quindi se lo perdiamo l'innesco di un possibile una possibile fase ribassista molto più duratura se la domanda si fa vedere esattamente lì e fa recuperare qualche livello di resistenza che attualmente ci blocca allora c'è la possibilità di andare a cercare l'ai e vedere poi che struttura si andrà a sviluppare la struttura del momento lo ripeto è questo range di cui siamo probabilmente in una fase di apice del movimento ribassista alla ricerca quindi del low attuale si è vista un po di domanda per adesso appena sopra i 32 mila però diciamo che parlare di domanda è estremamente prematuro perché guardate le candele rosse e quelle verdi mettendole a confronto le une con le altre si vede chiaramente la predominanza dell'offerta andremo a vedere anche meglio la situazione grafica anche magari da un punto di vista giornaliero e perché no mensile visto che ormai gennaio sta per volgere al termine ma direi che per prima cosa è dovere parlare della situazione wonderland poi abbiamo in realtà anche tante altre cose da dire perché ieri c'è stato il discorso della fed c'è un cambio di nomenclature su etere un 2.0 solo è pura semantica non cambia nulla e poi andiamo un po a vedere quello che è successo in questa settimana non sono successe grandissime cose al di là appunto della della continuazione ribassista che è mero mercato non ci sono state notizie particolarmente impattanti sui fondamentali qualche respinta di etf da parte della sec microstrategy che nonostante tutto è stato l'anno avvisato la secla avvisato che stava sbagliando nella contabilità di bitcoin perché ha prese la presentato diciamo sul bilancio in maniera errata ma nonostante ciò lui non molla e continuerà a detto che correggerà chiaramente la contabilità perché lo deve fare per legge e continuerà a investire in bitcoin anche in questo anno poi cos'altro abbiamo lì sopra dunque qualche altra notizia puntuale volante ma il grosso due parole anche sulla yield resort di anchor visto che me lo chiedete spesso ma il grosso è su wonderland stesso che è un po il discorso del del giorno insomma allora che cos'è successo intorno a wonderland cos'è tutto sto casino che si è creato innanzitutto possiamo andare a vedere il grafico guardate un po cosa come è andato ultimamente possiamo andare a vedere sia time che vmemo visto che uno include gli apy e l'altro no ma in realtà le apy adesso nemmeno c'era più ma questo diciamo è l'ultimo dei problemi perché ci sono dei cioè il vero problema è a livello macroscopico allora il valore sia di time che di vmemo è dampato clamorosamente adesso a 290 dollari se pensiamo che al picco era 10.000 insomma possiamo capire quello quello che è stato quella che è stata l'entità del ritracciamento ma la cosa che ha scaturito diciamo la neanche lì la totalità del damp perché è una scoperta nuova quest'ultima che vi sto per dire il damp in realtà c'era già da tempo ma il damp diciamo in questi protocolli ad elevato rischio con apy così elevati e con diluizione così elevata è intrinseco quasi nella piattaforma stessa fa parte no del gioco e durante una situazione di bear market come abbiamo spesso detto la le persone tendono ad andare off risk quindi uscire no da questi protocolli e di conseguenza il prezzo cala tuttavia oggi c'è stato un fatto molto grave che ha causato un crollo repentino oggi stesso proprio guardate meno 50 per cento del prezzo di time ed è stata la scoperta che si fu quello che insomma il cofondatore in realtà non è neanche cofondatore più il gestore insieme a daniele della treasury di wonderland sapete il capitale che viene raccolto da wonderland va a finire in quella che viene definita proprio treasury ovvero la l'insieme aspettate che vi volevo portare un po di timeline anche per farvi vedere i dati ovvero l'insieme di capitale gestito dalla dao in questione che poi è movimentato direttamente da alcune persone che dovrebbero essere scelte con un wallet che si chiama multi sig ovvero tutti insieme o meglio una soglia deve essere superata ad esempio se ci sono cinque wallet almeno tre su cinque quattro su cinque a seconda del multi sig devono firmare insieme la transazione per andare a movimentare i fondi quindi diciamo c'è una gestione da parte di un toddy wallet della treasury una di queste persone era è in realtà perché non è ancora stato estromesso sebbene ci sia in corso la votazione proprio adesso per estrometterlo è quello che ha il nickname sifu 0x sifu su twitter che si è scoperto essere una di quelle dirigenti coinvolti nello scam di quadriga cx che è un exchange canadese che ha scammato un po di tempo fa per tantissimi dollari e inoltre lui è anche un criminale quindi oltre al fatto di quadriga cx alle spalle un passato da criminale e direi che è l'ultima delle persone che si vorrebbe a gestire la tesoreria di un protocollo defi non so cosa ne pensate voi è una scoperta che è saltata fuori oggi perché sono state condivise alcune conversazioni non si capisce bene quando daniele l'avesse scoperto si dice un mese fa forse prima forse dopo non lo si sa la certezza non ce l'avremo mai nessuno di noi lo saprà mai una cosa certa è che è gravissimo sapere che c'è una persona del genere che ha in mano comunque un potere decisionale su una tesoreria così importante sul tuo protocollo e far finta di niente secondo me questo ahimè è un errore imperdonabile nonostante tutta la stima che ho sempre avuto per daniele che attenzione non mi rimangio le parole che ho detto in passato perché daniele era riuscito a costruire un avevo una vision della defi che condividevano avere tutti i protocolli sincronizzati collaborativi uniti per diciamo un ecosistema comune ed era una cosa che poteva funzionare ma poi c'è stato questo scivolone che ahimè è imperdonabile si perde completamente la fiducia di nei confronti di una persona perché a mio parere non so come dire cioè non è non è possibile non è assolutamente perdonabile far finta di niente su una cosa del genere poi non so cosa ne pensate voi io voglio anche un po di confronto con voi su questo cioè prima di oggi si sapeva che era un protocollo a rischio estremo a rischio folle ma così come tutti gli altri no rom dao redacted tutti quei protocolli che sono olympus dao stesso sono fatti cioè per come sono creati hanno una componente di rischio enorme tant'è che finiscono nella categoria del gambling no dove ci si va ad allocare se proprio lo si vuole fare dei fondi da dire proprio sono buttati questi non li voglio neanche più vedere e se va bene va molto bene in caso di bull market in caso di prosecuzione rialzista in caso in cui poi il protocollo dovesse veramente funzionare bene allora chiaramente il ritorno è elevato ma i rischi sono altrettanto elevati e pertanto è gambling no il discorso è proprio di gambling ma qua c'è una cosa diversa cioè non c'entra col protocollo bisogna andare a dividere le due cose cioè una cosa è il protocollo con le sue caratteristiche che allora lì si prende come esempio olympus dao perché a wonderland è un fork di olympus dao né più né meno non è che non si è inventato niente con wonderland no il protocollo è quello poi è lo scopo che ci dai no è l'utilizzo che ne fai se l'utilizzo vedi olympus dao no quello che stanno costruendo quello che si sta facendo io lo seguo ancora con interesse non credo che sia uno scam olympus dao personalmente per quanto poi la il token possa avere un prezzo deciso dal mercato che per ovvi motivi adesso in fase di dump ma non bisogna unire le due cose no un conto è il protocollo il come è fatto e quello che è l'andamento poi del del token stesso e i possibili esiti che può avere e lì c'è una componente di rischio che abbiamo sempre definito estrema lì parliamo di gambling parliamo di una categoria di rischio estrema dall'altra parte c'è questa cosa qui di avere un criminale come cogestore del della treasury che è una cosa veramente come dire imperdonabile non non mi vengono in mente altre parole per definirla e che purtroppo fa perdere completamente fiducia in tutto l'ecosistema se l'avessi saputo prima ovviamente non ci avrei mai messo nemmeno il cipino no l'avrei messo altrove e basta perché non voglio avere nulla a che fare con un protocollo backed con dietro persone con queste credenziali no assolutamente distanza massima e non lo sapevo ahimè nessuno di noi lo sapeva perché se l'avessimo saputo non saremmo nemmeno qui a parlarne non ci sarebbe neanche stato l'interesse e l'avvicinamento no non sarebbe neanche nato probabilmente il protocollo fin tanto che non lo si sapeva rimanevamo noi quella componente di rischio che dicevamo prima con senno di poi sapendo questa cosa chiaramente non non c'è molto adito a dubbi no massima distanza finché non si placano le acque da tutto l'ecosistema no che ha a che fare in qualche modo con wonderland e dintorni io me ne tengo personalmente alla larga perché voglio un po capire che fin dove finiscono le colpe di uno iniziano quelle dell'altro sebbene so che non sapremo mai l'esatta verità nel dubbio ecco io tengo le distanze perché una situazione del genere è una situazione ripeto veramente veramente grave daniele ripeto diceva che lo ha detto che lo sapeva da circa un mese voleva dargli una seconda possibilità perché secondo lui le persone meritano una seconda possibilità ma secondo me qui non si tratta tanto di una seconda possibilità cioè una seconda possibilità la dai a chi fa un errore perdonabile ma a un criminale che ha delle credenziali di questo tipo non si tratta di dare una seconda possibilità cioè è un peccato di negligenza far finta di niente ma questa è la mia personale opinione e non voglio neanche fare quello che fino a ieri osannava daniele e da oggi gli butta merda addosso perché sono due cose differenti no quello che ha fatto quello che cercava di fare è innegabile da un punto di vista tecnico da un punto di vista di cercare di costruire una community e gli obiettivi che aveva però poi scoprendo questa cosa cioè capite che è impossibile non cambiare opinione su su certe cose no io almeno la vedo così e mi sento di condividere con voi tutto ciò perché io ho sempre detto quello che pensavo con sincerità se fino a prima di scoprire questa cosa pensavo in un certo modo adesso non mi rimangio certamente quello che ho detto in passato perché se l'ho detto l'ho detto perché lo pensavo perché non sapevo quanto accaduto oggi quanto scoperto oggi mi ero fatto una certa idea che purtroppo i fatti che sono stati rivelati oggi hanno l'hanno mostrata errata perché si si è dimostrata una situazione completamente diversa ahimè questa è la situazione ad oggi e vediamo un po' come come evolverà sono curioso mi dispiace perché la defy poi fa una brutta figura con con queste situazioni già mi immagino no il la speculazione mediatica che ci sarà dietro a questo fatto del riciclaggio la truffa la criminalità che in questo caso purtroppo è vero e alla fine non so non so neanche come commentare una cosa del genere spero solo che non si arrivi a fare di nuovo di tutta l'erba un fascio perché questo è un caso isolato e spero che rimanga il più isolato possibile e vediamo un po' come come si risolverà daniele ha fatto uno uno statement ha rilasciato una una sua affermazione una sua la sua opinione dove eccolo qua vedete parla di sifu dice che l'ha scoperto un mese fa circa come vi dicevo io voglio dare una seconda possibilità eccetera 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 la sua la community chiaramente non era d'accordo cioè appena è stato scoperto gli hanno gli hanno dato tutti contro gli hanno detto che doveva cacciarlo fuori e allora ha fatto la votazione che dunque l'avevo ve l'avevo aperta da qualche parte ma non la trovo più e insomma c'è una votazione di di governance dove si decide se mantenerlo oppure no nella gestione della treasury qualcuno addirittura ha votato sì io non lo so non so neanche più cosa pensare ma vediamo vediamo come andrà sicuramente la votazione sarà a favore di di allontanarlo e di estrometterlo sono curioso di vedere come si comporterà daniele e cosa che provvedimenti verranno presi cosa ne sarà diciamo di tutti quei protocolli che di per sé avevano un perché perché comunque abracadabra spell cioè era un ecosistema sensato il problema spesso poi sono le persone che ci sono dietro in questo caso sifu e eventualmente io non nego che ci sia la possibilità che anche daniele sia coinvolto in qualche modo io non conosco i fatti nessuno li conoscerà si può solo fare speculazioni e supposizioni certo è che scoprire una cosa del genere fa perdere fiducia cioè non lo so quello che è successo a me è una grossa delusione una grossa perdita di fiducia nei confronti di di chi hai sempre reputato un builder una persona che ha fatto che lavorava tanto che cercava di innovare e poi insomma si sono rivelate queste cose io non so che dire sono abbastanza d'accordo con l'opinione di andre cronie che anche lui ha commentato il fatto avvenuto oggi che vedete andre cronie dice io supporto ancora daniele voglio ancora lavorare con lui ma ci sono alcuni limiti che non vanno superati uno storico di frodi purti insomma crimini di criminalità non è un errore ma è una cosa intenzionale su questo sono pienamente d'accordo e quindi avere permettere a sifu di gestire fondi specialmente fondi di utenti è negligenza sono completamente d'accordo con andre su supportarlo ancora no guardate lato lato tecnico e tutti non mi rimangio quello che ho detto però la fiducia dal lato mio purtroppo è persa per il momento non non ce la faccio proprio a fidarmi più di di questo ecosistema mi dispiace dirlo è una grossa delusione ma io al momento la vedo così non so cosa ne pensate voi io volevo adesso scambiare due due opinioni con voi prima di andare avanti per avere un po di dibattito no sull'accaduto che secondo me è la come si chiama deve essere un po l'argomento del giorno è importante parlarne daniele rimane un genio ma adesso lo è del male io sono curioso di spero che si capisca poi come fino a che punto arrivava cioè cos'è successo davvero mamma mia io nel dubbio da popsicle sono scappato io quello che ho fatto è tirare via quel poco che era rimasto del mio cippino da wonderland che ormai era completamente polverizzato e non mi espongo a meme in realtà ma non voglio adesso anche qui seminare il panico la ragione è che meme comunque è la stable coin backed dalle posizioni di abracadabra e non vorrei che ci si innesca su una sorta di bank run a causa magari di nuove scoperte che verranno fatte nei prossimi giorni e ciò causi il depeg di meme è un rischio che esiste non credo che sia un rischio alto però io nel dubbio sinceramente me ne tiro fuori personalmente ho scelto di evitare questo questo ulteriore rischio e non espormi più a meme quindi meglio fare attenzione ecco in queste situazioni a tutto ciò che anche lateralmente collegato no con con wonderland stesso danny stava cercando di farcene venire a conoscenze in maniera soft è troppo buono e voleva far riscattare una persona non esporsi a meme mi sembra un po da ignoranti scusami guarda non è il fatto di di prendere una posizione contro pro una persona si tratta di di minimizzare una questione di rischio ok io se posso evitare un possibile rischio in una situazione molto tesa come questa io lo faccio poi non dico scappate di corsa da meme io cioè quello che dico lo dico sempre con l'intento di di condividere di condividere quello che io penso con voi poi non deve essere visto come un consiglio no non è mai un consiglio è un una condivisione io quello che penso ve lo dico se poi non lo so preferite pensate che sia più saggio magari non parlare più di certe cose ma anche in passato abbiamo toccato questo tema no parlare sì o no di cose di protocolli a maggior rischio alla fine io ve l'ho chiesto a voi e la maggioranza di voi mi ha detto sì comunque parlane ancora perché l'importante è capire che ad alto rischio non deve essere una una pubblicità no di questi protocolli perché lì sarebbe veramente una un errore grave da parte mia se ve ne parlassi dicendo guarda che bello ip y 100.000 per cento no cioè ip y 100.000 per cento ma gambling rischi elevati e tutto quanto quindi alla fine ho deciso ho sempre deciso di di portarvi anche questo lato del mondo cripto perché comunque un lato non lo so è interessante anche solo da studiare anche senza fare ipin no io personalmente non avevo quasi mai fatto ipin a parte quel mini cppino che avete visto era uno zero virgola qualcosa per cento che avevo allocato in in wonderland al tempo seguendo un preciso ragionamento di rischio che infatti poi in quel periodo storico era andato bene poi avevo ridistribuito anche in redacted e rom insomma vi avevo parlato un po di quello che era il senso no la strategia dietro ma è una strategia di gambling non è un investimento non è nulla di ciò e quindi non lo so è sempre è sempre questa la domanda che capita no sto ragionando con voi a voce alta è non lo so forse dovrei semplicemente accettare il fatto che con il numero di follower che ha cresciuto certi temi è meglio non toccarli proprio per evitare che qualcuno magari fraintenda e parlare soltanto di magari protocolli a basso rischio cose più più tecnico non lo so non so neanche perché fino io da sempre ho dato un'impronta personale no a quella che è la comunicazione di questo canale e di conseguenza non mi sono mai soffermato a dire ma questo lo dico non lo dico ho fatto sempre tutto in maniera molto naturale lo vedete cioè un semplicemente un flusso di coscienza a volte infatti a volte mi perdo via tra una roba e l'altra e questo lo vedete no la vedete la trasparenza nelle mie parole non è che mi preparo il discorso da dire vi dico così così cos'ha così pompiamo sta roba no è tutto quello che mi passa per la testa ve lo dico mi spiacerebbe un po no dover dare un taglio diverso ai contenuti che vi porto perché mi sembrerebbe poi che non fosse più mio no al cento per cento però ci rifletteremo ci rifletteremo allora andiamo avanti adesso con questo discorso perché voglio voglio continuare il dibattito voglio continuare il dibattito uscita un'altra notizia aiuto cos'è successo cos'è successo cos'è successo a me dispiace dell'attacco contro daniele secondo me la situazione deve essere discuta discussa con rispetto verso la persona l'errore è evidente forse anche il dolo ma assolutamente tutto l'aspetto tecnico funzionale non deve essere messo in discussione e daniele non è un criminale ma la fiducia persa la fiducia persa indubbiamente purtroppo perché è un errore una negligenza uso le parole di andre che secondo me sono corrette una negligenza del genere è veramente cioè è grave purtroppo è grave e è difficile tornare indietro è un criminale oppure no a questo punto non so più cosa credere io personalmente c'è una mia personalissima opinione non lo so se credere ancora nella buona fede o no io ci ho sempre creduto nella buona fede di quello che ha fatto quello che è emerso adesso mi fa mettere in dubbio tutto non so più cosa pensare io nel dubbio non penso a niente perché non è compito mio giudicarlo fortunatamente e quello che posso fare è pensare alla mia allocazione e al ridurre il rischio ok e qua è questo quanto è questo insomma l'estromissione di sifu è stato estromesso cosa è successo quello che ha fatto daniele su un piano professionale non è giustificabile pago un premium per farti gestire i miei fondi e mi metti un truffatore è vero però credo sia la buona fede credo danni sia un personaggio eccentrico e magari pensava di poterlo gestire sicuramente un personaggio eccentrico però mettere un insomma accettare il fatto di essere affiancato da un criminale noto cioè non è bello non è affatto bello purtroppo avete già parlato del fatto che daniele vorrebbe rimborsare il dump esatto questo è un'altra cosa ovvero il cioè c'è stato un dump anche prima di questa notizia che ha portato il prezzo di time al di sotto del come si chiama del del valore beccato dalla treasury no sapete che c'è la treasury che in teoria dovrebbe se il prezzo di time scende sotto un certo livello ricomprare per riportarlo sopra ciò non è successo e chi aveva un prezzo di liquidazione perché la follia a volte è talmente alta che uno addirittura non gli basta esporsi a un rischio del genere del protocollo ma addirittura collateralizza vmemo per borroare altra liquidità e operare in leva ecco quella è una cosa impensabile l'abbiamo sempre detto anche lato gambling lì si va veramente a un livello di di perdita sicura tra un po no e e quindi quello che è successo è che il prezzo è sceso sotto a quel livello c'è stata una liquidazione a catena di persone che avevano appunto il liquidation price lì aspettandosi il buyback della come si chiama della della treasury e quello che è accaduto è che non è avvenuto sono stati liquidati è stato innescato un ulteriore dump e si salvi chi può e quindi il come dire il discorso è che adesso daniele ha detto che forse rimborsava di tasca sua che è stato liquidato non saprei adesso cosa cosa può succedere vmemo più 36 per cento da inizio diretta ma non credo che sia un qualcosa di di ecco di qualcosa di cui discutere ma avete detto vai a vedere l'ultimo tweet di daniele vediamo vediamo danielotto cosa ci dice allora domani a ok ecco domani aggiungerò una proposta per ridare indietro tutti i fondi della treasury no tutti i fondi al treasury value o continuare i buyback e aggiungere un nuovo una nuova gestione le transazioni sono le persone che ripagano le loro posizioni ok ok quindi in sostanza tutte queste transazioni che c'è tutti questi nuovi mim disponibili sono le persone che in un qualche modo ripagano le loro posizioni in leva comprando mim quindi delle vera già delle vera gizzano e non lo so io per il momento non cambio idea io resto spettatore resto un umile spettatore che non tocca con mano questi protocolli perché preferisco non non addossarmi nessun tipo di rischio nemmeno minimo ok quindi su spell non c'ero mai stato esposto e su time non sono più esposto su mim non sono più esposto e quindi resta guardare resto guardare su ice non sono mai stato esposto neanche lì popsicle e per ora guardo ok io rimango ripeto un umile spettatore questo questo è quanto luca leggi che cosa abbiamo che cosa abbiamo che adesso ci sono troppi troppi messaggi non si capisce più una ma siete troppi ragazzi siete per scaricare posizioni intendi l'esposizione a mimo in generale su abracadabra perché la mia idea è che si possa sfruttare la possibilità di arbitraggio prendendo in prestito mim e scambiando in usdc nel caso in cui mim dovesse perdere il peg torni in mim e chiudi è un po rischiosino è un po rischiosino il il tutto non lo so sinceramente non non credo che cioè io personalmente non lo farei è uscito che merlin di abracadabra è davasini davasini chi è ragazzi io non conosco non conosco chi è chi è chi è ragazzi ditemi chi è vi prego ditemi chi è perché complicarsi la vita tutti su atom tutti su atom mamma mia davasini a bit a bitfinex ok fake news attenzione anche lì founder di bitfinex quello di tether beviamo un po di acqua ghiaccia qui si ci vuole veramente ma a parte aver scoperto che sifu fosse un criminale ha successo qualcosa vedi tu cioè se quella non è una notizia sufficiente vedi tu tranquilli guardate su tui da la storia di merlin è un fake totale attenzione anche alle fake news anche in quel caso lì bisogna bisogna verificare perché immagino che adesso usciranno notizie di qualsiasi tipo verificate mi raccomando verificate e ma invece del caso di attacco a cripto puntocom ne avete parlato si è saputo qualcosa in più ma avevano lasciato un comunicato quali di cripto puntocom e che avevano spiegato tutto quello che era successo in sostanza e non sono stati danneggiati i fondi degli utenti perché comunque c'era stata una sottrazione mi pare di alcuni iter e poi cripto puntocom ha rimborsato e ha incrementato le misure di sicurezza mi pare che sia sia così ecco merlin non è una fake news non lo so ragazzi io io vi direi soltanto di verificare verificate tutto non fidatevi mai di niente a prescindere soprattutto ciò che trovate online verificate lo cercate delle fonti attendibili magari più di una e ripeto verificate la frog è quasi bollita luca ma sei uscito da wonderland adesso almeno 90 per cento ormai rischia fino alla fine ma guarda ti dico la verità è stato più una cosa di impulso che mi è venuta no io il c'è il player è come se fosse andato a termine per quanto mi riguarda per come stanno le cose ora e l'uscita in profitto l'avevo fatta all'inizio in parte che poi avevo redistribuito altrove ho incassato questa perdita su una parte del cipino iniziale e lo noto come risultato perché mi son fatto la domanda no tu ci investiresti adesso la mia risposta è stata no e quindi ho detto non ha più senso rimanerci dentro ok quindi ho tenuto attenzione i cipini nelle nelle altre due anche se comunque sono abbastanza in in dump pure quelle no redacted e romdao ma lì cioè perché ve l'avevo detto no il cipino del lungo termine era quello lì il discorso tutto niente ma è una mera scommessa cioè è veramente un gratte vinci quello lì niente di più niente di meno luke leggi l'ultimo thread di the defy edge andiamo a vedere the defy edge allora questo no direi di no direi di no allora the defy edge vediamo se eccolo vediamo allora dov'è l'ultimo thread o mamma mia troppa roba 14 vediamo dove siamo a qui spiega un po tutto no spiega tutta la storia si fu chi è ok quello di quadriga cx eccetera eccetera daniele alla faccia si fu invece ha il braccio diciamo quello che controlla la treasury prende le decisioni la community ha votato a ok un po di mesi fa ha votato di mantenere si fu come treasury manager un po di mesi fa chiaramente non sapendo chi ci fosse il suo background eccetera 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 beh lui l'ha detto chiaramente da anonimo nessuno sapeva chi fosse quant'altro si poteva crederci oppure no ha spiegato che era un partner in un fondo ha costruito start up bla 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 ma chi è veramente qua si spiega che è stato in prigione 18 mesi ha rubato carte di credito è insomma un criminale è un criminale e anche tra l'altro recidivo e poi ha scammato con quadriga cx l'exchange canadese del 2019 che era un ponzi e il cuo il cui cofondatore è misteriosamente sparito in india tra l'altro storia che hanno veramente dell'incredibile e che nessuno ha verificato che sia successo realmente non lo so non so più cosa dire e poi questa è un po tutta la storia no quello che abbiamo visto anche adesso non so veramente più cosa pensare in verità è nessuno saprà mai la verità credono non lo so non a volte la realtà supera l'immaginazione c'è poco da dire è incredibile grosso grosso casino grossa delusione sono senza parole ragazzi sono veramente senza parole ma si può fare un'ora di live a parlare di sta cosa solo per non è per prendere le visualizzazioni ragazzi è una c'è importante parlare di sta cosa qua è veramente importante cioè è un precedente assurdo sulla defy e cioè pensateci no che che figura può far fare la defy e basta questo questo qua e cioè veramente da da film questa cosa è una impressionante non sono senza parole è incredibile incredibile adesso cambiamo argomento e basta questo questo è un po il discorso questo è un po il discorso fan fact una wilder 730 vmemo ha votato per tenere sifu qualcuno ha votato però non lo so adesso mi fa paura la defy e ma cioè è diverso no è non è che è tutta la defy così no è un caso isolato un caso isolato quadriga cx eccetera eccetera sì tutta questa storia incredibile e puoi fare un quadro anche su st anchor e rischio de peg in un futuro possibile profondo bear market allora ma in realtà il discorso di anchor è cioè non c'entra nulla con questo no però vedete che la yield reserve è in calo in fortissimo calo no e adesso è a 35 milioni di dollari circa e al momento quindi la domanda è ma come come facciamo no a sistemare la situazione perché il le stable coin in earn su anchor sono in continuo aumento mentre il borrow purtroppo è molto più limitato e questo fa sì che la yield reserve venga sempre più svuotata no perché comunque di fatto abbiamo un borrow che è limitato e quindi poco utile da parte della piattaforma e abbiamo un earn alto quindi la piattaforma che deve pagare molto di più quindi quello che succede è che o si riduce l'apy fino a portare a stabilità le due componenti oppure qualcuno deve andare a rimpinguare manualmente la yield reserve qui si può fare più speculazioni pensando che magari come si chiama mamma mia doc won e chi per lui può andare a rimpinguare appunto direttamente con i suoi fondi la yield reserve per incentivare ancora comunque l'utilizzo di di anchor stesso se si abbassa l'apy mi immagino che comunque anche l'utilizzo si si vada ad abbassare dipende quanto si abbassa perché anche comunque un 15 per cento schifo non farebbe però ecco c'è c'è tutto da vedere e nel frattempo di portare altro collaterale sapete che c'è in coda nella pipeline di aggiungere bisol aggiungere bi atom e di cambiare no con la versione 2 di cambiare la logica che c'è dietro ai b asset andando a mettere anziché il b asset come collaterale fare una cosa simile a quella che è stata abracadabra in qualche modo quindi di utilizzare gli generating asset come collaterale lo yield viene intascato dall'utente quindi esempio metto m sol che sapete che è la versione liquid staking di sol la metto a collaterale io mi prendo comunque la ricompensa di staking però pago un po di più la il borrow su su anchor no alla fine l'atto mio non cambia nulla perché con biet e biluna io rinunciavo al rendimento di staking e magari pagavo meno che è il borrow stesso in questo caso non rinuncio al rendimento di staking ma pago un po di più alla fine il bilancio è identico il pro qual è il pro è che anchor permette un maggior un più ampio spettro di collaterali ok e quindi questo può aprire le porte a un maggior borrow e di conseguenza un una yield reserve che cresce perché il borrow è quello che va a riempire a rimpinguare le casse della yield resource stessa quindi come in questo thread viene spiegato io concordo abbastanza con questa visione mi aspetto che inizialmente verrà rimpinguato manualmente magari da terra form labs o chi per esso per incentivare sempre l'utilizzo della piattaforma e nel frattempo in parallelo mentre ahimè la riserva comunque viene sempre più svuotata si sviluppano queste novità per incrementare la domanda da lato borrow e alla fine si arriverà a un nuovo equilibrio sarà sempre un 20 per cento di apy magari 18 17 vedremo lo vedremo e però l'obiettivo chiaramente è la stabilità della piattaforma stessa perché in bear market sappiamo tutti quanti come cala la domanda per il borrow perché meno persone vanno a borroware in bear market c'è il rischio liquidazione c'è il rischio di downtrend magari meno persone vogliono essere esposte a questi asset e di contro c'è un maggior incentivo invece andare a depositare liquidità per metterla rendita perché la stable coin è l'asset più desiderato proprio in una fase di di downtrend è un rifugio dalla volatilità stessa e quindi questa è un po la situazione in tali termini poi cos'altro avevamo da dire a bainance riaprirà i bonifici sepa non so se lo sapete in realtà li ha riaperti ieri solo ad alcuni utenti ma un po alla volta li riaprirà a tutti ok depositi e prelievi a partire da ieri se utenti selezionati per il momento in un programma pilota e poi un po alla volta ripeto a tutti quanti di altre notizie assi la fed anche se ormai immagino avrete letto di tutti i colori no riguardo la fed sostanzialmente sono pronti ad alzare i tassi hanno detto per il momento li hanno mantenuti tali e quali però hanno visto che l'economia sta ripartendo che la situazione si sta un po stabilizzando il mercato del lavoro anche sta ricominciando a macinare insomma l'economia sta ripartendo dopo la crisi covid e di conseguenza secondo powell probabilmente già la prossima riunione della fed che sarà a marzo sarà possibile iniziare a aumentare un po alla volta i tassi e qui si apre tutto il dibattito della conseguenza che ci può essere su bitcoin di una cosa di questo tipo sulle cripto no ovvero alzare i tassi vuol dire disincentivare in qualche modo la l'esposizione sulle riserve di valore storicamente è sempre stato così perché anche sul mercato azionario volendo perché si vanno a creare delle alternative interessanti magari lato obbligazionario così via e c'è da vedere di quanto vengono aumentati i tassi per quanto tempo e tanti altri parametri ma sono tutte cose che poi vedremo per il momento il mercato non non ha colto con particolare vigore questa notizia perché se prima del discorso di powell probabilmente molti si aspettavano che continuasse a stampare indefinitamente senza parlare di aumenti di tassi c'era stato un po un pump anche di bitcoin poi subito dopo ha subito riassorbito probabilmente per la realizzazione no di questa cosa ebbene questo direi che è quanto qui ci ha hanno c'è un'altra cosa tra l'altro sempre riguardo wonderland abracadabra che era stato proposto di unire i due protocolli questo un'altra roba che non so da dove è uscita sinceramente unire i due protocolli ovvero dire che il treasury di wonderland poteva andare a finire cioè essere utilizzata o meglio essere utilizzato dei nuovi spell mintati per andare a comprare la treasury di abracadabra e unire le due cose quindi in sostanza abrac no sulla treasury di wonderland usare spell per comprare la treasury di wonderland e abracadabra diventava il suo stesso liquiditi provider no guadagnava quindi le fida lp e se le teneva di nuovo nella sua treasury che andava incrementare di volta in volta e una proposta che secondo me non è molto sensata personale opinione perché vai a unire due protocolli che insomma uno dei quali tra l'altro adesso abbastanza disastrato e è un po forzata poi vai a creare nuova emissione di spell lo vai a diluire vai a penalizzare anche gli holder di spell infatti dopo che è uscita questa proposta anche spell è dampato abbastanza è dampato a prescindere per via della situazione generale no però insomma il grosso del dump c'è stato dopo questa proposta perché diciamo che abbastanza non lo so va a penalizzare un po gli holder perché va a diluire di più creando nuovi spell anziché darli in incentivo di farming li si utilizza per andare a comprare la treasury di wonderland vabbè comunque non credo che verrà finalizzata ma redacted e tokamak allora in realtà tokamak non c'entra niente anzi non non fa neanche parte della della componente gambling no redacted è sempre una una mia un mio cipino no rimane lì io quello lì l'ho lasciato lì perché non c'entra con daniele ci sono rimangono validi concetti di rischio sempre detti no quindi la possibilità di perdita pressoché totale e dall'altra parte sul lungo periodo se le cose dovessero andare bene la possibilità comunque di di ottenere una rendita di tutto rispetto poi se uno personalmente dice secondo me è un ponzi che non serve a niente ma non bisogna neanche pensarci no di di esporsi io avevo fatto i miei ragionamenti di rischio rendimento il l'obiettivo che avevano il come gestivano la situazione insomma non lì non c'è nessun si fu in ballo non c'è niente a che vedere loro sono con olympus dao e quindi la mia opinione rimane esattamente quella che era fino a una settimana fa né più né meno quindi rischio più infinito ma con il cipico il discorso cipino il senso è sempre quello e poi aggiornamento short di copertura allora lo short di copertura è sempre lì è sempre uguale e io avevo come obiettivo adesso a proposito di dirvi di fare il nostro flusso di coscienza solito o in pending in realtà un long speculativo mi raccomando se mi imitate io non vi dico più niente ve lo dico guai a voi guai a voi se fate le cose che faccio io solo perché le dico guai a voi ve lo dico ogni volta ma anche a costa di annoiarvi a morte ve lo ripeto tra i 28 o addirittura anche so no tra i 28 e i 32 mila perché non me l'ha ancora fillato ho aperto un piccolo long speculativo un trade di fatto speculativo che ha stop loss nel caso in cui chiudiamo una candela settimanale qua sotto ok questa è una posizione speculativa e se andiamo a rompere a ribasso questo livello quindi andiamo a fare una roba del genere poi al successivo high che mi immagino sia un lower high vado a incrementare un po lo short di copertura questi sono i prossimi piani lo short di copertura che ho adesso che è piccolo e lo sapete non è che è cresciuto improvvisamente è sempre quello è rimasto aperto e finché non abbiamo un costrutto potenziale di bottom o una situazione che faccia pensare a una ripartenza io lo tengo aperto a una protezione no è come se fosse un parziale take profit va sempre visto così e questo è un po il senso dello short di copertura ma solana a solana anche lei ha avuto un po di casini ultimamente un po di casini di performance degradata e il prezzo non ne ha neanche risentito più di tanto che è la cosa più più assurda no a volte viene da pensare no c'è la performance degradata dovrebbe dampare in realtà è rimasto in questo range contro bitcoin no la coppia sol btc nonostante le alt non è che stiano performando granché bene e io vi dico sto pensando se sostituire al perché al momento ve l'avevo detto non anche in passato mi sarebbe piaciuto essere esposto in generale sui layer 1 e layer 2 però non esiste una sorta di indice e allora avevo scelto luna e solana di fatto sono i due su cui mi sono esposto stavo pensando di rivalutare la cosa esponendomi sui vari layer 1 e layer 2 diciamo i top 10 mi piacerebbe espormi su quelli pesando l'esposizione per tvl quindi allocare che ne so un 5% perché non è che voglio fare un'esposizione folle magari un 7 un 8 qualcosa in più per cento su un un paniere di coin layer 1 layer 2 pesate per tvl quindi al momento se andiamo a vedere che ne so defi lama dove ci fa vedere i tvl delle varie chain a parte che oggi c'è stato veramente un tracollo della defi ultimamente ma soprattutto immagino a causa anche del dump del mercato stesso ma cioè questa questa cosa che è accaduta oggi potrebbe veramente segnare un precedente importante per la defi cioè portare una una fase critica temporanea perché comunque non non è che è morta la defi non è importante anche capire questo è stato un precedente importante da studiare da ricordare ma e che potrebbe impattare anche a breve medio termine sull'intera defi no perché comunque fa sorgere dubbi si dice ma ci possiamo ancora fidare oppure no però anche lì bisogna a volte non si conosce mai con chi si ha a che fare no soprattutto nel mondo della defi dove molto pseudonimato dove non si capisce bene chi fa cosa chi ha fatto cosa e quindi viene da farsi tante domande e la crisi della fiducia è un tema che potrebbe veramente ricorrere impattare in maniera non indifferente quindi ancora di più diventa importante capire no studiare e fare dei dei ragionamenti non superficiali sulle piattaforme che si va ad utilizzare e comunque detto questo io volevo andare a vedere le chain perché comunque le year 1 ecco le year 1 e le year 2 sono quelle cose che io tendo sempre a preferire perché sono infrastrutture no quindi non si pone il problema fino a un certo punto anche lì perché a volte ci sono persone influenti anche su quello ma diciamo che meno influenza c'è da parte di una o più persone soprattutto se sono poche su una piattaforma un protocollo e meglio è anche perché teoricamente le cripto dovrebbero essere questo no dovrebbero essere un'alternativa dovrebbero essere una fuga da questo sistema di 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 accentramento del potere della forza decisionale e quindi appunto questo è il discorso le year 1 e le year 2 quindi per adesso a parte tere un che ha già un ruolo suo nel portafoglio ci sarebbero luna bnb che in realtà ha già un ruolo anche lui phantom avalanche solana polygon tron in realtà non me ne vogliate ma lo escluderei cro osmo che in realtà forse preferirei atom a sto punto e anche se osmo sta sta spingendo un sacco e una cosa di questo tipo dot mi spiacerebbe comunque escluderlo magari andare a scegliere ecco una decina di di layer 1 e layer 2 pesati per tvl non so conoscete un prodotto di questo tipo che che fa qualcosa del genere perché sarebbe super interessante dai ti faccio token alle 1 alle 2 su balancer e ma il problema è che su balancer c'è soltanto ci sono gli rc20 ed intorni no tutti le vm compatibilità ad esempio solana non ce lo puoi mettere su su balancer altrimenti male non sarebbe male luca farei una puntata speciale per il corso di defy con i rischi della defy che i stadi wonderland guarda potremmo fare un video dedicato sul sul che i stadi e vedere un po quello quello che ne potrebbe conseguire in generale raccogliere un po di fatti magari una volta che ha terminato il che diciamo sia un po di solito questo polverone no perché adesso si fa fatica a capire quello che è successo bisogna come si dice bisogna vedere cosa si riesce a scoprire quanta verità riesce a saltare fuori come vanno a finire le cose così via e poi magari facciamo un bel come si dice un bel recap della situazione su betoven x c'è una cosa del genere betoven x ha un fork di balancer anche quello quindi luca cosa pensi succeda sushi anche sushi indirettamente è stato toccato fatemi un po vedere no non sembra averne risentito più di tanto però non è non lo so non lo avevo non l'ho mai preso in considerazione sushi in realtà e non lo so adesso tutto il discorso della frog nation sono curioso di vedere che fine fa perché ve lo ripeto era un progetto che di per sé aveva senso cioè mettere insieme tutte le cose sinergicamente sotto un unico ecosistema distribuito a tanti token holder era una cosa che aveva senso e da lì era nata la mia stima verso daniele suo lavoro cioè lo ribadisco non me lo rimangio questo porca miseria ma perché se sei andato a combinare sta cosa ma chi cosa ti è venuto in mente cosa ti è venuto in mente mannaggia no io c'è anche sushi cioè tutto ciò che purtroppo è parte in qualche modo di di ciò per il momento distanza poi si vedranno si vedrà da come saltano fuori le come da quale sarà l'epilogo ecco solo ftm si salva e ftm ultimamente sta spingendo parecchio ftm tra l'altro la defy su phantom sta sta crescendo fatemi un po vedere se overview se è stata intaccata anche lei in qualche modo dalla crisi di no guardate il change è così tendenzialmente positivo c'è la defy su phantom ne ha risentito molto bene terium è quella che ha subito forse di più terra terra non più di tanto bsc e terium soprattutto ma scommetto scommetto è abracadabra meno 13 per cento lido come mai lido per land stake strano però lido meno 10 per cento di liquidità oggi su lido lo so e convex curve in generale maggiori protocolli perché probabilmente curve convex perché c'erano i pool di meme è stato tolto un po di meme abracadabra quello che ha un po fatto partire il come si chiama la l'effetto domino è un effetto domino di fatto è un caso studio interessante cioè bisogna capire dove va a finire tutto ciò imparare quali sono i tuoi layer 2 preferiti ma guarda vai a leggere tweet di tetra node su meme the peg molto volentieri luke tokamak come sembra ecco allora facciamo un'altra distinzione importante perché quando vi avevo parlato del c'era il comparto cipini da una parte che sono i gamble rischio folle così giusto per il discorso gratte vinci no il la scommessa che erano proprio abracadabra wonderland rondao e redacted nell'ordine in realtà wonderland redacted rondao e invece c'era la parte spec no del portafoglio vi ricordate che erano curve convex e toque ma quelli rimangono e non quelli tra l'altro sono anche sotto ribilanciamento cioè quelli lì non sono scommesse come wonderland per fare il paragone no wonderland è il cipino lì invece è un'allocazione pensata con le caratteristiche che vi avevo spiegato nel video dedicato e quindi qua non cambia assolutamente nulla non non cambia nulla perché non c'entra niente quanto accaduto oggi anzi continuo a pensare che siano protocolli assolutamente interessanti poi sono combattuto perché passa molto il ragionamento nel mondo cripto ogni persona conta solo in base ai soldi che ha guarda hai molto ragione purtroppo nella defy a volte si vengono a ricreare quei quei meccanismi che tanto odiamo e che dovremmo voler cioè voler superare speriamo che le cose migliori daniele sta ancora twittando io voglio seguire quello che succede perché veramente ha un caso studio importantissimo assolutamente importante andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere allora cinque minuti fa se vuoi sapere quanti soldi ci sono all'interno di wonderland ok hanno aggiunto alla dashboard probabilmente un vediamo a ok e in sostanza ti fa vedere la loro treasury posizioni in leva liquidity pool volt ok interessante beh almeno si può vedere per chi non non conosci wallet stessi si può andare a vedere la la treasury in tempo reale bene benissimo poi il resto è come esattamente come era rimasto vediamo un po cosa succederà ragazzi sarà veramente un documentario non so come veramente sono sono senza parole senza parole senza verificare sempre il curriculum dei tesorieri si bisognerebbe che noi non possiamo mannaggia noi non possiamo è quello il problema è quello il problema grafico atom dai andiamo a vedere andiamo a cambiare un po argomento ogni tanto che ci vuole grafico atom assolutamente bullish guardiamolo un po anche su un time frame più elevato abbiamo ok degli degli higher high higher low al momento stiamo litigando con 9000 e 4 questo scorso top stiamo ritracciando un po e volendo 7000 trade intorni potrebbe essere un entry per un trade speculativo perché no si potrebbe osservare quel cosa cosa succede su su quel livello che comunque è ben impostato atom e si sta comportando molto molto bene daresti un'occhiata a luna molto volentieri molto volentieri luna tac allora luna sempre guardando un time frame settimanale ha fatto un piccolo costrutto di top rotto a ribasso adesso sta un po ritracciando e la prima zona rilevante è qua tra i 12 mila sat e i 13 mila set quindi vediamo come reagirà in questa area ma al momento direi che il grafico di luna è decisamente bullish invece vorrei portare la vostra attenzione sulla total market cap che purtroppo non è bellissima guardate abbiamo va bene l'inversione che c'era stata qui al top la perdita di 1 2 e 3 supporti e adesso ahimè siamo in questa zona tac tac siamo in questa zona e quindi c'è una possibilità di andare a testare questi due livelli e il che vorrebbe dire un ulteriore dump secondo un ulteriore dump tra l'altro neanche da poco questo sarebbe un 20 per cento quindi è importante recuperare il prima possibile 1 75 questo questo livello perso perché se questa si dimostra appunto una deviation e facciamo il classico tac tac così bene ma se diventa un bearish retest purtroppo è il prossimo target è un 20 per cento più in basso quindi vediamo vedete questo è un livello abbastanza importante 1 75 comunque tra tutto questo casino adesso fatemi fare quello che trova il lato positivo in tutto c'è bisogna cercare sempre anche di vedere queste cose no tutto questo casino ha sparso sta spargendo tantissima food nel mondo delle cristo e probabilmente andrà avanti a farlo magari anche per un po non lo so che impatto può avere adesso ha visto oggi che il è stato respinto un etf spot dalla sec e quindi c'è un cambio no dall'estremo bullish dove anche il insomma il la persona comune che trovi in giro bitcoin crypto defy futuro ok 100 per si passa un po all'estremo opposto quindi dove tutti sono bearish ti dicono no tutto una truffa uno scam ponzi va zero c'è molta oggi c'è molta tensione palpabile nelle nelle community in generale ma è comprensibile no siamo in una fase ribassista magari in tanti sbagliando sono entrati in alto facendo magari delle esposizioni troppo grandi io spero che uno impari sempre dai propri errori e rifletta prima di fare mosse sfrontate spinto solo dall'emotività a studiare a fare una strategia pianificare un lungo termine che è ciò che fa la differenza ma al di là di questo magari molti sono in perdita magari erano addirittura esposti troppo su wonderland cosa che è sbagliatissima spero che si è sempre emerso dai nostri discorsi che abbiamo fatto che era una cosa a rischio altissimo non ho mai mancato di sottolinearlo quindi quello sono assolutamente certo ma spero che emerga sempre che il rischio è lì è sempre lì è tangibile non esiste una piattaforma senza rischio e ci sono piattaforme a rischio estremo laddove il rendimento potenziale anche più alto questo è sempre il solito discorso no e quindi subire perdite da una parte perdite cioè è una situazione spiacevole è normale umano no e quindi c'è questa questo astio no nei confronti delle cripto che di solito poi quando si estremizza diventa un po un bottom signal macroscopicamente psicologicamente no usando un una cosa astratta che può essere simile al fear and greed no quindi vedere un po il sentiment generale quando il sentiment è estremamente negativo tendenzialmente è il momento in cui magari si può ripartire perché i fondamentali non sono cambiati ricordiamocelo soprattutto di bitcoin non è che adesso è cambiato qualcosa rispetto a quando eravamo a 60 mila non è cambiato niente è solo una questione meramente psicologica poi se si va a guardare il caso singolo come wonderland lì sì che è cambiato qualcosa perché è stato c'è stato un fatto importantissimo oggi che ha cambiato le cose e anche in tutto l'ecosistema che gli gira intorno però per il resto non è che adesso bisogna far di tutta l'erba un fasce dire la defaia uno scam le cripto sono uno scam no bisogna essere razionali io vi invito sempre alla razionalità soprattutto in queste situazioni dove la razionalità tende a sfuggire di mano voi tenetevela stretta perché è ciò che fa la differenza se uno perde di vista la razionalità e la sua strategia di lungo periodo è rovinato bisogna aggrapparci si con tutte le forze il che non vuol dire andare all in by the deep che sono altre sono stronzate anche quelle permettetemi il francesismo perché chi vi urla by the deep è esattamente come chi emotivamente panic sella cioè è lo stesso errore è un errore di emotività è uno sbaglio da non commettere mi raccomando e siate razionali non fatevi prendere adesso dallo sconforto perché è un momento di sconforto quello di oggi me ne rendo conto e cercate di vedere oltre di razionalizzare le cose cioè cos'è cambiato davvero nei fondamentali circoscriviamo i danni laddove veramente ci sono perché alcuni danni ci sono non bisogna far finta di niente ma senza fare troppo casino senza dire tutto uno scam perché no non è così ok mi raccomando mi raccomando ultime domande allora io che volevo buttarci un cipino calma calma con i cipini state buoni con i cipini allora i migliori sono quelli che gridano al by the deep e sellano al dump successivo esatto esatto bisogna bisogna assolutamente assolutamente evitare queste queste cose emotive no mi raccomando Luke la correlazione con gli indici come la vedi e come la vedo la vedo che al momento così al momento siamo in un periodo di correlazione molto alta con l'azionario americano ma come si dice è una fase no non è che è sempre così e quindi è così anche in futuro io la vedo in questo modo almeno quindi io sul discorso della correlazione poi cosa mi serve no da un punto di vista operativo non più di tanto non più di tanto e basta quindi questo questo è il discorso cioè per me è un dato non che non è così tanto utile come vedi l'inflazione americana e adesso vediamo l'inflazione americana vediamo un attimino come come procederà la fed nelle prossime riunioni che farà quando alzerà i tassi di quanto li alzerà per il momento non è cambiato niente ma le prospettive sono quelle di alzarli quindi c'è un po un po un po già di price dean la situazione è già un po price dean ecco riguardo a questo dunque 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 bene va dogecoin mcdonald cosa ne pensi vabbè lasciamo stare che differenza c'è con il down di maggio allora con il down di maggio in realtà poca differenza c'eravamo in piena euforia c'è stato un ritracciamento molto forte basta tutto lì i fondamentali non sono cambiati poi non è che era giusto il prezzo al top adesso questa è la total però non è che era giusta una capitalizzazione di due trilioni e quattro ed era sbagliata una di uno e due cioè non esiste un prezzo giusto e sbagliato non esiste solo un'euforia e una depressione uno sconforto il punto giusto è nel mezzo tendenzialmente no quindi c'è bisogno evitare la cosa la chiave se uno vuole a una visione di lungo periodo è evitare a tutti i costi di esporsi solo qui o solo qui o solo qui o solo qui ma di cercare di evitare di esporsi alle fluttuazioni e di concentrarsi di contro sul lungo periodo questa è la chiave per veramente avere una visione longeva del mercato e che ci permetta di sopravvivere appunto a lungo nel mercato stesso altrimenti diventa tutto una scommessa cerco di comprare lì perché poi sale vendo perché poi scende compro più in basso e va a finire che si fanno mille cagate e si rovina il proprio investimento cioè il trading va fatto se lo si sa fare e allora lì ha senso perché diventa un'attività proficua se la si sa fare ma non è per tutti cioè se uno arriva così e dice sa proviamo a fare trading si rovina statene alla larga non toccate leve non fate cose di questo tipo cioè pena la rovina mi raccomando ve ne prego col cuore in mano non facciamo follie non facciamo by the deep lean compriamo che arriva 100k può solo salire sono tutte cavolate cioè finché si scherza ok to the moon lo diciamo tutti ridiamo ma quando si tratta di implementare una strategia cioè porco giuda bisogna mettersi lì e filtrare tutta quella roba lì che è euforia o sconforto quella è la chiave poi abbiamo la tutte le le varie piattaforme de fai solide su cui andare a farmare e quant'altro poi poi cosa ne pensi di curva a livello fondamentale sai se ci sono novità riguardo ma a me piace curva a livello fondamentale sono sono assolutamente io ve l'ho detto la fettina spec su curve convex ce l'ho messa e ce lasciata vero che a dubai sono foolish su cosmos ma guarda dubai sono veramente tra l'altro non vi dico magari un giorno vi racconto bene cosa ho scoperto cosa ho visto o assistito dal vivo alla nascita di un ponzi incredibile veramente incredibile il mondo è bello perché è vario c'è poco da fare e guarda non lo so lì quando ho visto quella cosa lì ho detto bene ecco io qui non ci voglio essere non mai non mi trasferirò mai in questo posto poi per l'amor di dio è bellissima è una città bellissima andateci almeno una volta andateci però insomma un po po importante ecco e dunque allora allora luca guardo uno degli ultimi tweet di tiziano dove risponde ad un video su daniele allora andiamo a vedere andiamo un po a vedere poi questo astio è brutto perché si riflette anche allora vediamo una risposta cos'è questa cosa cos'è questa cosa una una sorta di predizione oddio impressionante c'è la storia impressionale la storia si infitti il mistero si infittisce il mistero si infittisce impressionale sono sono senza parole aiuto mamma mia boh non lo so non so cosa dire ragazzi non so cosa dire non sentiamo e dice quello che c'è scritto lì sopra è quello che c'è scritto lì sopra mamma mia mamma mia che dire non lo so non è girato qualcuno ci giri un film vi prego una volta che si saprà tutto girateci un film perché assolutamente c'è c'è da da va documentata questa storia una storia incredibile documentario su netflix esatto basta ragazzi io non sono rimango talmente basito che non so più cosa dire va mi trasferisco a pavia pavia appunto io ovviamente e no a parte gli scherzi allora oggi volevo parlare sopra the wolf of wonderland bellissimo bellissimo e incredibile incredibile ha tweetato daniele ancora ragazzi è incredibile poi giuro vi saluto oggi volevo parlare un po di questo e basta volevo parlare soprattutto di questo domani facciamo un'altra live delle nostre solite no basta non ha più tuitato ma non mettetemi agitazione graficozzi che terium è a rischio e no allora vi volevo dire che domani poi facciamo una live più più classica quindi dove andiamo a vedere un po le nuove defi nuovi sviluppi eccetera eccetera e nel momento cioè per il momento ci fermiamo qui perché altrimenti andiamo avanti io sono sono veramente in una condizione in cui non so cosa dire non so cosa dire ragazzi sono parto nei viaggi mentali che non finiscono mai più quindi non so cosa dire e vediamo vediamo un po vediamo un po domani ci aggiorniamo facciamo una live di quelle solite e e basta nel frattempo continuiamo anche adesso la prossima settimana ritorniamo a regime anche con i video quindi col corso di defi eccetera eccetera e basta e basta ragazzi che dire ma lo facciamo noi il documentario poi una volta che succederà babbia babbia bene amici io ho detto questo vi saluto vi saluto ci vediamo domani ancora in live perché facciamo appunto la live normale dove andiamo a dare un'occhiata ai grafici andiamo a dare un'occhiata alle defi eccetera eccetera e basta ragazzi non so più di non so veramente oggi giornata giornata folle giornata completamente folle platypus ha dell'istato meme ho visto ho visto ha visto ha dell'istato meme tra l'altro mi ha fatto un po storcere il naso anche su platypus che non sa gestire un minimo di the peg è crollato tutto perché sei andato via tu non vado più via basta stop alle ferie short 100 per prima che vada in ferie no anzi guarda non fatelo è che poi qualcuno mi prende sul serio bene non lo fare mai più no per adesso non ce l'ho in programma vi avviserò per tempo tra l'altro adesso vi lascio con quest'ultima cosa così che qua se la nostra total market cap dovesse proprio sentirsela potrebbe ancora qua è proprio opium pur no opium al 100 per cento fare un bel op no com'è che facciamo la linea come si deve op così dite che è possibile tac o sono un dannatissimo sognatore cosa dite cosa dite no non lo so vabbè lasciamo perdere dai e basta questo questo è tutto domani ci aggiorniamo un po meglio ve lo giuro andiamo cerchiamo di non parlare di di non perderci via in in divagazione di sognare gratis esatto vediamo vediamo un po meglio i grafici e tutto quanto ragazzi io vi saluto unicreditum la fusione tra unicredit e creditum quello su phantom bene bene amici miei così con questo grafico da sognatore vi saluto noi ci rivediamo domani alle 18 e 30 e basta vediamo come finiranno tutte queste storie stanotte non dormo stanotte inizio a non lo so follia pura follia non dare mai un sogno a sifu me lo sogno stanotte sifu mamma mia pazzesco basta me ne vado ciao addio ciao